Ciao Belli! Ciao Belli! Nuovo vlog! C'è che è il vlog che non parliamo e non parliamo, cioè non discutiamo. Confessateci! Sfogatemi! Davvero? Sì? No? Oddio santo! Due castori cosa avete fatto? Perché metti le caccole nell'arte? No, non lo fare! Non lo viste! Quindi ragazzi parlando... Deve sotto i nani, no! No, ecco! E' cazzo sempre lì! Esatto! Come ci avete consigliato alcuni di voi tramite Steam, addirittura alcuni di voi tramite un messaggio privato e provare a fare comunque video che non siano inerenti al gameplay. Ne avevamo pensato di fare un stack, che non è la parola che voi pensate in inglese. Non è che è un shikarpa! La mia domanda è risposta tra lo Youtubers, questo dovrebbe essere i cazzo che vedete qui, e voi! E voi! Dove potete chiederci cose personali, tipo da quante volte fai la cacca al giorno, a come fai non a farsi da barbara si bella, al capello di Anthony! Oltre a questi capelli! Oppure... Oppure... Potete lasciare un commento qua sotto, oltre alle domande, e sotto elencate un video che sempre noi ne renta al gameplay, che vi piacerebbe vedere fatto da noi! Cioè ad esempio, non lo so, mettete il caso avete qualche challenge per fare un esempio, cioè vi piacerebbe vedere... Tipo la capata in bocca challenge! Eh! Capito? Tipo... Mi sa che perdono! Eh! Mi sa che perdi tu perché c'è l'apparecchio! Ecco... Mi sa che perdiamo in tonambia, ecco... Non la capata in bocca che è meglio, però challenge non lo so, è tipo... Fai un frullato alla Maurizio Merruzzo con roba di merda e mangialo! Qualsiasi tipo... No ma qualsiasi tipo di video non è inerente al gameplay che vi venga in mente, potete lasciarlo qui sotto nel commento! Ricordo che... Qui sotto potete lasciare anche le... Qui sotto! Proprio qua sotto! Sempre sotto un commento ragazzi! Non commentate un posto altrimenti vi... Sì è qui sotto! Sotto! Sotto questo video! Stai capito! Sotto questo video! Bello per italare se... No! Ultima cosa! Aspetta! Sotto questo video voi lasciate le domande del fucker del question and answer! Ogni tanto! Non ci abbiamo un cazzo da fare! Quando potremo economicamente faremo qualche giveaway! Di qualche gioco! Poi leки delle giveaway le lasceremo nei vari giveaway video! Anche se più o meno sono sempre... Quindi non direte qua sotto! No! Noi nel giveaway comunicheremo tutti i passaggi che si trovavano a fare Affinché si possa partecipare Esattamente Non chiedete giveaway di giochi perché a seconda della nostra disponibilità economica potremo Cioè se il modesto è così? Fate Se il bambino Potremmo fare il giveaway Quindi non deve chiedere giochi tipo Watch Dogs Cosa che mi costa Dico Assassin's Creed mille milianta Capito? Tutti gli Assassin's Creed Qualche gioco sfizioso Ecco, maggior parte potrà pubblicare comunque giochi indie Indie ovviamente Che abbiano un costo contenuto Non dico che non voglio spendere Millanta euro No, non dico che non voglio spendere un euro Millanta euro Ecco, nemmeno i millanta euro Però che sia un gioco comunque poco conosciuto così possiamo anche pubblicizzarlo E magari vi potrà piacere o meno Potete sfiziare un gioco in questione Detto ciò Salute, fitti, nascite, arrivederci e grazie Nel prossimo video Ciao belle